Mi muove la paura, la paura di non trovare più interesse nelle cose, la paura di pensare che sia tutto inutile, la paura di sprecare tempo e soprattutto di non averne abbastanza. Dopo questa botta di ottimismo posso dire che comunque la paura quando non è paralizzante è sempre stato un motore incredibile e lo è stato per la storia dell'intera umanità e nel mio piccolo anche per i miei piccoli progressi quotidiani. Mi muove la paura e le risposte che cerco per superarla.